Mi ha detto che il ministro Odiber non ha contestato la tua domanda sulle domande e sulle domande per il nostro punto 3. Quanto è il 28,7% che ha detto che il mercato del budget di mercato ha detto che il 28,7% è stato in compagnia con il nostro sacco, con il signor Maduro e il suo amico? Ora, il nostro punto 3, quanto è detto che il ministro ha detto che la Bira Ronti non ha contestato, non ha contestato, ma non ha contestato, ma non ha contestato, ma non ha contestato. Ora, il ministro che ha detto che il nostro parlamato è stato trasparente e che ha detto che la documentazione ha detto che la Bira Ronti ha detto che la regla della compagnia Damox ha detto che ha detto che il Parlamento ha detto che la informazione, ora il nostro punto 3 è il 28,7% che ha detto che il nostro parlamato è stato trasparente. ma non ha contestato, ma non ha contestato, ma non è stato trasparente. quindi il nostro parlamato è stato trasparente. e 28.7% che paga mercadello di Ata, Tabaipa e compagnia di suo amico Maduro e in cui il popolo già ruba anche quanto placa e sacchita inserirà.